Ranni velenosi all'inizio Che bello Sii E qui ci sono già tanti ranni che vogliono ammazzarmi Hola amicos buongiorno buon parigi buonasera Io sono Sedeon questo è mio Canale oggi siamo qui con un appuntamento su minecraft Su una nuova serie delle 14-16-18-19 Solo per voi ragazzi iscrivendovi al canale di Satirio Avete una serie 24 ore su 24 Andiamo a vedere subito come si chiama e come andremo ad affrontarla Spero al meglio possibile e buona visione ragazzi Perfetto ragazzi siamo in questa nuova mappa in questa nuova serie CTM Però più CTM quindi cercheremo di fare una serie CTM tutta completa L'ho trovata non è italiano ovviamente Welcome in Langrell by Rubisk Spero di mettervi il link in descrizione sotto per scaricare la mappa Vabbè solitamente le solite cose Good luck questo non ho capito a cosa serve Ma poi lo scopriremo vivendo Oppure morendo dipende da come andremo a finire Perfetto dopo aver impostato tutte le impostazioni Andiamo a vedere un po' cosa abbiamo qui Magic book tier 1 Allora ci prendiamo queste belle cosettine Abbiamo protection la testa con protezione Figata guarda un po' quando siamo carini siamo dei trans adesso Perfetto forse ci saranno case nascoste qui sparse per la mappa Per l'inizio della mappa ma a noi non interessa assolutamente niente Per te è una CTM quindi dobbiamo andare a trovare delle lane Ci saranno le intersezioni Ci saranno i fossati così grandi Ok perfetto quello è il monumento Il problema adesso Non affogarci Per buttarci giù E qualche cassa nascosta Tra virgolette nascosta perché è molto visibile agli occhi di una volpe come me Meno 8 cuori Questi ci servono tipo Uhuhuhu Ma comunque Allora siamo arrivati al monumento Abbiamo il linecraft L'ender chest non possiamo craftarla Ma la troveremo ovviamente sparse per la mappa Ma qui c'è un'altra cassa Che ci dice Envil 128 Oh mio dio Ma va bene lo stesso È già notte Quindi penso che saremmo fottuti tra non molto E faremo già la prima morte Perfetto ragazzi Mi fa molto piacere questo Perfetto Sali qua Sali là Patapim Patapun Ciaccia Ok Allora Saliamo sopra Vediamo un po' cosa ci aspetta qui Tanti mostri Lì dovremo entrarci sicuramente Ma prima saliamo qui e scappiamo Ma tu sei pazzo Non mi ha dato neanche una Perché salgo qui sopra Tu cadi Perfetto Dopo esserci distrutti Le nostre piccoline manine Per distruggere questi spawner Qui ne troviamo subito un altro Ma io prospetto che qui ragazzi Ci sarà un da farsi Enjoy the beautiful view Bellissima Mamma mia che figata È proprio la morte totale E qui ci sono già tanti ranni Che vogliono ammazzarmi Pericolo Pericolo No 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 Corri 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 Raga ma non si può cominciare così una serie Già con due morti Che poi tra l'altro è la mia prima CTM Ok Una cosa positiva che sta facendo Nuovamente il giorno Quindi penso che moriranno Molto molto male Dice Oh mio dio Non, 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 non Cadi giù, cadi giù, cadi giù Non tu, non tu, non tu Non tu Madonna mia santissima Eh sì, vai Il tiro a bersaglio Io direi di tornarci dopo, belli miei Spero ci sia, non so, almeno un'arma piccolina Ma giusto per, un coltellino Non so, un taglierino Almeno qualcosa per affrontare questi strozzi Ma qui sotto che c'è? Ah Sangue da maranci Corri, via Volevi fottermi eh Non mi dire che è la prima lana Ok la prima lana Così ci facciamo anche un bellettuccio Ragazzi fortunatamente mi chiamavano Bell Greers Ecco fortunatamente abbiamo trovato questo spawner Altrimenti saremmo morti molto male qui sotto Bloccati dalla stronza di Ragnatela Poi con un po' di legna Che andremo a prendere da uno di questi alberelli Facilmente buttare vero? Senza morire senza morire senza morire Ma anche se moriamo ragazzi è fatto tutto apposta Perché poi andremo a riprendere la lana da lì Poi ragazzi ovviamente rigeneriamo la salute e la fame Tutto fatto apposta ragazzi Un po' di bombeal Perfetto perfetto Tutto 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 fatto apposta Bella raga E allora quella bianca sarà hard Allora diamond black wool Abbiamo già la black pearl Qui abbiamo dei funghetti Possiamo farci ragazzi qualche zuppetta Qui c'è un bello spawner di zombie Che bello è pieno di spawner di zombie Ho scelto un'ottima mappa per cominciare la mia prima ctm A buon intenditore mappe di merda Faccio prima mangiarmeli crudi funghi E non risalire la cascata sangue da Marange Allora una bella accetta veloce veloce Altrimenti ci mettiamo millenni Mi cade se spacco questo? No Però è caduto il pezzo di legno Risaliamo tramite le nostre bellissime jane Ok lettuccio fatto Buttati dentro e dormi Fai i sogni con Fai i sogni felici Ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego Oh Vieni E vieni Vieni che ti prendi un po' di sole senza crema Vieni vieni Ma porca di quella Tua madre è una gà Porcellina No 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 con le mani Non con le mani Abbiamo una spadina di legno E direi di usarla senza farci buttare giù nell'acqua Ma dai mi stanno a fare gangbang Neanche siamo entrati Questo me l'ha dato l'arco Questo me l'ha Ma da dove? Ma è invisibile Ma dai sono slab mi prende per il culo Vuoi trollarmi eh? Vuoi rendermi la vita difficile? Va bene va bene E' buono con me Ti vuoi bene? Grazie Sai sei come un figlio per me Anzi Lo eri Stronzo Sei stato adottato Mamma mia Grazie Grazie Veramente molto gentile Non sapevo come sopravvivere senza questo piccone Wow Io sono morto 30 volte per delle scale Ok uccidimi Uccidimi non qua Non qua Non uccidimi qua Uccidimi Grazie Ehi Pia Oh mio dio Che sta succedendo La puntata è finita Andate in pace Amen Il mondo Eh lo so che sta venendo da dietro Ma E' giorno E' giorno Anche di giorno Qua rompete le palle Ma sei pazzo Ma sei pazzo Ragazzi Riuscirò a cominciare la mappa Sangre Ragni velenosi All'inizio Che bello Sìììììììììi Lì c'è un altro spawner Di Arrivi No Ma c' arriva lui dietro di me Buongiorno Qui c'è la lava sotto E qui c'è qualcosa di misterioso Ci sono trappole C'è tutto in questa mappa C'è molto di più Di una semplice CTM ragazzi cosa vedete di più della vita ah che bello l'intersezione ovviamente è anche rotta si vuoi un'intersezione intera paga qui abbiamo culver creek qui ci abbiamo storm cliff castle qui ci abbiamo lava dentro l'acqua e l'acqua dentro l'ave marsh of the xan sea sotto molto probabilmente ci sarà qualcosa ma si c'è qualcosa no sta prendendo fuoco proprio come sono arrivato io salve era giusto per vedere non sono morto è rimasto col braccio così come la cosa rubo cosa c'è qui dentro c'è qualcosa di utile sembrerebbe qualcuno sta cliccando delle pressure plate a rete sembra le stesse scappette di merda 350 spawner di ragni ci manca soltanto spiderman emergency kit kit cadi giù cadi giù cadi giù che mappa di merda c'è è più questa trolling che le isole del trolling che ho fatto lo scorso video madonna raga mal di testa mi sta venendo ve lo giuro eeeh se vabbè se vabbè quella voglio solo quella cassa lì can only attack spiders è di oro ma non me ne fotti assolutamente nulla perchè li shotto no li shotto mi dispiace non puoi continuare perchè il gioco è crashato madonna gare dai dai venite venite adesso non fate più i bolli vero ecco io ovviamente c'è da aspettarci una bella coppia di creeper anzi sono più di uno esplodi 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 che bello dai andiamoci a morire vi supplico fatemela ricominciare prendi prendi e corri ti prego ti prego non so cosa fare ragazzi aiuto sono chiuso spacca questo spacca questo dai entra dentro entra dentro entra dentro psa dentro dai dai ti prego adesso il problema è soltanto uscirne vivi è soltanto la mia prima ctm ti prego sali 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 corri fatelo per me non spawnatemi supplico ci sono danni che mi stanno inseguendo ti sento no 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 rimani sopra ragazzi voglio 20 like ragazzi se ce la faccio riportare sano e salvo la lana arancione corri che cosa corri che sto per creparci no 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 la lana c'è la lana c'è siamo riusciti a portare la rage bull oh mio dio che cos'è questa sharpness knockback la led poteva utilizzarla io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente vi da mettere un bel pollice in su per continuare la serie iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto commentare qui sotto per quanto è brutta questa mappa è difficile stronza infamante infamosità c'ha questa mappa e come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento qui tutto da Satirio ciao belli no non è così tu mi tradisci con la tua ex non è come ho fatto a tradirmi con la mia ex se la mia ex si è trasferita all'estero